Nessun collegamento fra gli ambienti e la Jihad o dell'ISIS e Amil Medhi. A stabilirlo è la Corte di Cassazione in riferimento e al giovane marocchino arrestato a gennaio del 2016 a Luzi, centro in provincia di Cosenza. Il ragazzo di 29 anni a suo tempo era sospettato di essere legato ad ambienti del terrorismo islamico ed era stato accusato di autoaddestramento a fini terroristici. Medhi era stato condannato in primo grado a 4 anni e 6 mesi, sentenza confermata poi dalla Corte di Assise d'Appello di Catanzaro, mentre ora la Cassazione ha annullato con rinvio la condanna, sottolineando che non ci sarebbero collegamenti fra il ragazzo marocchino e gli estremisti islamici. L'addestramento sarebbe avvenuto, lo ricordiamo, sul web e sul suo pc sarebbero stati infatti ritrovati video di esecuzioni e appunto su come addestrarsi al combattimento.